Benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, martedì 10 ottobre, siamo in diretta e questo è il canale 17 di Fano TV. Buongiorno a tutta la Regione Marche che ci segue come tutte le mattine per la Rassegna Stampa, in particolare i giornali della provincia di Pese Urbino, il Carlino ed il Corriere Adriatico. Un cordiale saluto anche a coloro che ci seguono in diretta su Facebook, sulla nostra pagina Occhio alla Notizia oppure Fano TV. Allora partiamo dal Santo di oggi, il Santo di oggi lo vediamo con la grafica, oggi è San Daniele Comboni, è stato vescovo, il sole è sorto alle 7 e un quarto e tramonterà alle 18 e 34 minuti. C'è poco da dire per quanto riguarda il tempo perché sarà un tempo comunque soleggiato a tratti soltanto poco nuvoloso per tutta la settimana. Il resto del Carlino, iniziamo con la fotonotizia. Chiudete quelle buche, troppe, sono troppe anche a Pesaro, troppe voragini sulle strade, centauri e ciclisti sono a rischio, anche il sindaco Matteo Ricci si arrabbia. Individuato il ladro seriale, un 96enne era la vittima preferita, i carabinieri hanno arrestato un albanese senza fissa dimora, l'anziano viveva da solo, rubati a più riprese sia i soldi, addirittura un televisore, nel fine settimana in azione della banda che si issa sui terrazzi servendosi di un uncino. L'intervista ad una madre, ho un figlio autistico, l'ansia di oggi è una legge sbagliata per il domani, sotto il doping con l'intervista a Porcellini. Poi il Correa Adriatico, che apre con la città a semafori zero, ecco i nuovi rondò, anche in via Mameli ci sarà una rotatoria e con via Milano i progetti salgono a 11, l'opposizione però a Pesaro è critica, slogan da 150 mila euro. Derubano novantenne quattro volte, incastrato dalla telecamera in manetta un giovane albanese dopo indagini dei carabinieri, durate sei mesi. Poi il dossier sul futuro del porto di Pesaro, giovedì un convegno con Del Rio e sotto si getta nel porto canale a Fano salvata dai carabinieri. Allora ripartiamo da qui con la pagina e la cronaca di questa tragedia sfiorata. Si getta nel porto canale tratta in salvo dai carabinieri, una notaia di 94 anni che cerca di resistere al deciso intervento di due militari. Si è buttata nelle acque del porto canale di Fano in piena notte ed è stata salvata dal pronto intervento dei carabinieri. Protagonista dell'insolito episodio è una signora di ben 94 anni, notaia in pensione che per motivi ancora non chiari ha tentato di farla finire. Finita sono stati i testimoni sulla banchina ad allertare il 112 che è intervenuto subito sul posto. Tutti i dettagli sul Corriere Adriatico di questa mattina. Sulla pagina di Fano ha anche l'interrogazione del capogruppo Bacchiocchi del Partito Democratico che lamenta la perdita della tipica funzione sociale della banca del territorio, quella che perlomeno era la banca del territorio, parliamo della Carifano per il PD. Il territorio paga un conto salato, un po' troppe, tre filiali di Carifano chiuse e altre tre riconvertite, dopo che altre sette erano state ridimensionate a seguito dell'incorporazione in Creval per far finta di niente, dice Bacchiocchi. La pagina di Fano del Carlino invece è sul bar Polver di Caffè che si trova a Sant'Orso, totalmente devastato dai ladri. È stato un assalto, dice il titolare. È l'undicesimo, furto in sette anni, portato via anche l'impianto di videosorveglianza, sfondato il muro del bagno. Corrado, il funerale di Corrado Cardelli. Corrado ragazzo anche a 60 anni, un grande insegnamento di vita, passione, lealtà in tutti i campi, dal sociale al giornalismo alla politica. C'era anche il sindaco di Fano Massimo Seri ieri alla chiesa di San Giuseppe al porto dove c'è stato appunto il funerale di Corrado che è morto a 60 anni. Dolorante ma sempre sorridente, la testimonianza delle figlie commuove la chiesa gremita. C'è ricordo anche di Fabrizio Schiavoni, uno dei suoi più cari amici, compagno di fede, di politica, di attività giornalistica, che ha narrato un episodio particolarmente significativo della personalità di Corrado Cardelli. Un fatto legato all'Inps che ricorda il giornale questa mattina. Trasporto malati, a rischio 71 lavoratori, nuovo appalto, a pressione tra i dipendenti di One Emergency Croce Azzurra, il caso diventa politico, se il Filippi della Tua Fano chiede l'intervento del sindaco Seri e del presidente Ceriscioli. E anche il Carlino ricorda Corrado Cardelli la promessa della figlia Margherita, caro papà per te diventerò un medico, commozione al funerale di Corrado morto a 60 anni. Ex Carifano moria di sportelli, previsti altri tagli a Montemaggiore, a Piaggia, a Tavernelli e anche a Fano. La rivolta dei sindaci, incontreremo i vertici del credito valtellinese, già soppresse le sedi di Saltara e anche quella di Barchi. La prossima sarà la filiale di Cerasa. E poi a San Costanzo in Manette, due fratelli che rubavano la corrente elettrica al vicino di casa e poi a Pergola, sempre dal Carlino, fiera del tartufo bianco, altro bagno di folla. Sull'aeroporto invece non siamo più in profondo rosso. Ieri mattina c'è stata una riunione dei soci, la reazione di Ruggeri sui conti economici, malgrado il risarcimento accordato all'avvocato Bissa, i bilanci fanno ben insperare l'amministratore unico al Ministero per incassare i 36 mila euro dei fondi PAC. Mentre sulla questione degli allagamenti, quando ci sono quelle alluvioni, quelle bombe d'acqua o comunque quelle piogge intense che fanno paura soprattutto quando i fiumi si ingrossano, ma anche i torrenti, come in questo caso il torrente Arzilla, che è un torrentino piccolo piccolo, ma quando poi cade giù tanta acqua fa paura. E dunque è stato ripulito l'alveo, sono iniziati ieri i lavori di pulizia al torrente dell'Arzilla. E dunque la pagina 18 del resto del Carlino, la cronaca con la morte di Alfio Cesaroni, un notor tartufaio di Acqualagna, l'uomo di 79 anni, era andato a funghi sul Pietralata, vittima purtroppo di una caduta. Lo hanno trovato senza vita nei boschi del monte Pietralata, poco distante da casa, lo cercavano da ieri mattina, ma il suo corpo è stato individuato solo alle 18 di ieri, poco prima che facesse buio. È morto Alfio Cesaroni, 79 anni, tra i tartufai più conosciuti ed apprezzati della zona. Non è stata ancora decisa la data del funerario che si terrà nella chiesa del santuario del Pelingo. Poi l'altra notizia per fare pipì a Cagli e finisce nel fiume, l'amico prova ad aiutarlo, ma cade pure lui. Fano Center, siamo di nuovo sul Corriere Adriatico, questo è il nome del nuovo centro commerciale, quello che verrà inaugurato praticamente venerdì prossimo. Venerdì prossimo a Fano, dove c'è l'Ocean, tanto per capirci, inaugurerà questo nuovo centro commerciale completamente ristrutturato, raddoppiato negli spazi. Fano Center quasi pronto per il taglio del nastro, titola Il Corriere Adriatico, confermata la data di venerdì prossimo, ma è corsa contro il tempo per la galleria. Si lavora anche di notte pur di mantenere fede al giorno stabilito. Oltre all'allargamento di Ocean, saranno aperti 20 nuovi negozi, di cui 11 di abbigliamento. Andiamo avanti e leggiamo l'altra pagina del Corriere. Andiamo a Fossombrone, l'incendio in carcere contenuto solamente grazie ai nostri agenti, la denuncia dei sindacati dopo le fiamme appiccate da un detenuto a Fossombrone. Molte carenze nell'organico per chi ha problemi psichici, servono altre strutture. E poi ancora da Urbino invece il Carlino, l'Ateneo Ricordi, Pannella, Marco Pannella, centinaia di film raccolte da mesi. Il Rettore prende tempo, mobilitazione di docenti, dipendenti, sindaci e anche cittadini. Dalla Valle del Cesano invece rubano l'energia del vicino. Due fratelli finiscono in cella, giovani albanesi abbandonati dai genitori, emarginazione e devianza a San Costanzo. Vedete in questa fotografia un filo di corrente elettrica che va da quella casa, da una casa dove abitano questi due ragazzi albanesi, fino alla casa del vicino. I carabinieri avevano eseguito un controllo alla ricerca della rifurtiva di colpi in zona. Interceptor, arriva primo alla mitica barcolana, vittoria, siamo sempre sulla pagina della Valle del Cesano, vittoria di categoria per la barca di Mosca e 46esimo posto nella classifica generale, parliamo di vela. Poi scommette e vince i soldi divisi con i dipendenti, lo stile di Gasperini titolare del ristorante Prima Secca con loro, clima familiare e dunque la gioia diventa collettiva, oltre 6 mila euro di vincita, scommettendo su alcune partite e poi la vincita è stata divisa appunto con i dipendenti. Il tartufo anche qui fa registrare il pienone a pergola e poi naturalmente si replica. Andiamo sulla pagina di Senigallia, emergenza clochard in centro storico, i pusher fanno chiudere un negozio, i commercianti dicono il cuore di Senigallia vive di immagine, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e quindi vivendo di immagine chiaramente un senza tetto sotto il comune in pieno centro di Senigallia non è certo una bella immagine, anche se non si può far finta di niente, dunque occorre prendersi cura comunque di questa persona, perché di persone parliamo. E poi arriva la rotatoria, addio al semaforo incubo, conto alla rovescia per il maxicantiere, dall'estire alla penna. Chiudiamo con la pagina di Ascoli perché da comunanza la cronaca ci porta questo incidente sul lavoro, muore soffocato nel silos, tragica fine di un operario di 62 anni in un centro raccolta di mais alla periferia di comunanza, la vittima dell'incidente è Ludovico Franconi, originario della frazione di Santa Lucia di Montefortino. È un operaio che appunto è morto, almeno questa è l'ipotesi, soffocata in un silos pieno di mais. Ed è tutto per la resegna stampa di oggi. Il 338 4968 250 come sempre a vostra disposizione per le vostre segnalazioni. Collaborate, continuate a collaborare con la nostra redazione, inviateci le segnalazioni di tutto ciò che vi accade intorno e che secondo voi potrebbe essere utile anche da condividere con i telespettatori o con le persone che ci seguono attraverso i social o attraverso la rete. Io mi fermo qui, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla notizia. Arrivederci.